Buongiorno, siamo qui nella redazione di QN e il resto del Carlino per presentare questo premio Mascagni. Insieme a noi c'è il Presidente di un'industria a Bologna Alberto Vacchi, un premio per le imprese capaci di crescere anche in mezzo alla tempesta. Ce ne sono, quali sono, come sta il mondo delle imprese di Bologna? Certamente il periodo non è tra i più felici, credo che questo lo capiamo tutti e lo vediamo tutti ogni giorno. Direi che Bologna ha rispetto ad altri territori delle peculiarità imprenditoriali assolutamente interessanti e molte di queste peculiarità sono proprio imprese che normalmente la grande maggioranza delle persone non conosce. Credo che questa sia una grandissima opportunità per far conoscere al mondo esterno imprese che ogni giorno lottano e credo facciano tantissimo per il bene collettivo e per l'intero contesto territoriale. Quindi il contesto territoriale di Bologna, come tutti, sta soffrendo del periodo perché credo che abbia più di altri la possibilità per proseguire un percorso virtuoso. Perfetto, grazie.